Ciao a tutti, beh ragazzi, ovviamente continuate nel banco il tema Coppa Italia, sconfitta rimediata per 4-2, dopo i tempi supplementari contro l'Inter, clima incandescente, sì, perché è anche incandescente il clima tra i tifosi gioventini che sui social stanno esprimendo le loro opinioni come giusto che sia, incandescente anche il clima per quanto riguarda il mondo media con delle ricostruzioni circa quanto sarebbe accaduto nello spogliatoio dopo il triplice fischio contro la banda di Simone Inzaghi e quindi è normale, è normale che ci sia delusione per una stagione che non ha portato nessun trofeo e soprattutto porta tanti dubbi in vista della prossima annata calcistica perché l'ho detto, l'ho ripetuto, l'ho ripeto ancora una volta non è tanto non vincere, questo è il mondo dello sport, questo nello specifico è calcio e soprattutto non avere una prospettiva concreta e soprattutto una prospettiva che si basi su fondamenta solide affinché la Juventus possa concretamente pensare nella prossima stagione di lottare per vincere lo scudetto, lottare per vincere la Coppa Italia e fare una bella Champions League, punto, questo è il tema dei temi. Poi, personalmente credo che sia doveroso che se perdi un trofeo così, ovviamente facendo riferimento alla sfida dell'altro giorno dell'Olimpico e se vivi una stagione di questo tipo, non ci possono essere sorrisi, benvengano gli scazzi, anche magari quelli tosti perché uno spogliatoio è sempre formato anche da personalità molto forti e quindi è sempre bene dirsi le cose faccia a faccia ovvio se si arriva magari a dirsi qualcosina di forte è perché il clima è altamente negativo però non bisogna nemmeno nasconderci, questa è stata una stagione deludentissima da parte della Juventus quindi per me il fatto che magari nello spogliatoio di Roma ci sia stato qualche screzio fa parte della normalità, delle dinamiche di uno spogliatoio perché se ci fossero stati sorrisi e non ci fossero stati scazzi, secondo me sarebbe stato un ulteriore pessimo segnale perché significherebbe quindi non capire il momento, non capire il peso specifico della maglia e la bruttezza della stagione proposta quindi benvengano gli scazzi perché quantomeno fa capire che la gente abbia idea di dove si trovi poi vediamo cosa succede perché è come sempre il rettangolo di gioco a dover decretare poi gli umori di una stagione questa è stata bruttissima e davvero non vedo l'ora che finisca anche dal punto di vista professionale perché ci sono tante sfumature ed è stata davvero logorante quindi benvenga e finisca questa stagione con le ultime due partite che non hanno più nulla da dire contro Lazio e Fiorentina vabbè lunedì saluteremo Giorgio Chiellini, saluteremo Paolo Di Bala due pezzi di storia della Juventus quindi questo è l'unico spunto per il resto questo è un campionato, è una stagione che non ha più nulla da dire parliamo ancora di Di Maria ragazzi continuiamo a battere questo tasso perché anche oggi in mattinato ho fatto delle verifiche è previsto un nuovo contatto con il suo entourage nelle prossime ore, nei prossimi giorni sappiamo perfettamente come il Paris Saint Germain abbia deciso per il momento di non esercitare l'opzione per il rinnovo automatico per un'altra stagione con il Fideo e quindi Di Maria si sta guardando attorno, Di Maria che ha detto a chiare lettere nei giorni scorsi che se il Paris non lo terrà lui comunque punta a farsi un'altra stagione in Europa per cercare di preparare i migliori modi in mondiale per poi eventualmente tornare a casa in Argentina io anche questa mattina ho ricevuto un feedback diciamo di apprezzamento totale per quanto riguarda le sue qualità e non potrebbe essere altrimenti perché Di Maria è di magia è normale che la Juventus anche in questi ultimi giorni sia continuando a riflettere sul discorso componente anagrafica perché parliamo di un classe 88, 34 anni compiuti e soprattutto ragazzi se dovesse passare il partito del contratto nudo, puro e crudo annuale la Juventus non potrebbe usufruire dei benefici legati al decreto crescita e quindi è questa la valutazione netta che la Juventus sta facendo perché uno come Di Maria soprattutto in questa Juventus lo prendi ieri poi ovvio possiamo discutere che a livello di programmazione andare su un 88 possa lasciare il tempo che trova però se guardiamo questa squadra ha urgentemente bisogno di leader tecnici e comportamentali ha bisogno di gente che entri nello spogliatoio e con solamente un'occhiata zittisca tutto e tutti quindi la Juve da questo punto di vista è normale è normale che stia cercando qualche leader in più e Di Maria è una ghiotta occasione poi bisogna capire anche eventualmente la testa di questo giocatore perché se arrivi a Torino con la volontà esclusivamente di preparare il mio remode mondiale snobbando magari il campionato o comunque ciò per cui vieni preso non è che vada tanto bene ma io credo che Di Maria sia un professionista talmente esemplare talmente forte che qualora dovesse arrivare si metterebbe nel mirino mondiale quindi lo preparerebbe il mio remode ma unirebbe poi l'utile del direttevole nel senso centrale la missione mondiale facendo quello che devi fare con la Juventus vediamo ragazzi ormai siamo al dunque io ritengo che entro le battute conclusive di questo mese capiremo concretamente se Di Maria andrà o meno alla Juve ma il fatto che i bianconeri stiano portando avanti i contatti con il suo entourage dimostra quantomeno come i bianconeri siano decisamente sul pezzo e come stiano anusando probabilmente un affare un affare da punto di vista ribadisco tecnico ma anche di leadership perché credo che in questo spogliatorio si debbano inserire almeno un paio di elementi che a livello di personalità sappiano imporsi al di là delle gerarchie cioè del fatto magari che c'è gente che arriva subito che dopo due giorni poi già magari gestisce e governa uno spogliatoio vediamo vediamo un pochettino quella che sarà la decisione della Juventus ma i segnali vanno avanti in quella direzione ovvero di dialogo tuttora apertissimo con l'entourage del ormai excalciatore del PSG parliamo anche di Pastorello perché ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti nelle ultime ore Pastorello ha fatto che la gente di Artur e di Federico Benardeschi per Benardeschi ha detto la nostra priorità resta la Juventus vedremo ciò che accadrà e Benardeschi comunque anche altre offerte mentre su Artur ha detto chiaramente non è l'interesse di nessuno continuare in questa situazione ha confermato che il brasiliano è stato molto vicino all'Arsenal a gennaio la storia ve l'avevo raccontata in tutte le salse se i Gunners avessero accettato un presto di un anno e mezzo a quest'ora Artur sarebbe a Londra mentre Ben Tancur non sarebbe stato venduto al Tottenham poi il mercato, le opportunità determinano le strategie la Juve è riuscita a piazzare Ben Tancur e quindi ha deciso di andare avanti con Artur Pastorello ha fatto anche una fotografia ha detto Allegri predilige una tipologia di centrocampista differente rispetto al brasiliano però diciamo che il riassunto dei riassunti è che Artur ha la valigia in mano ormai ce l'ha da parecchio tempo è chiaro che ha un costo a bilancio davvero enorme non è semplice anche togliersi minimamente il suo ingaggio però Artur ha un procuratore bravissimo che è Pastorello che quindi evidentemente Gian Maggio ha iniziato a delineare una strategia fatico a pensare che qualcuno possa rilevare a titolo definitivo proprio per via del peso a bilancio il cartellino dell'ex Barca però magari si può strutturare un prestito un prestito su più anni che porti il ragazzo ad esprimersi in altri lidi diciamo che tutte le strade portano la partenza di Artur e se così fosse poi la Juventus dovrebbe prendere due centriampisti uno che sappia inserirsi prolifico un mediano che abbia assist quindi gol e uno che poi possa eventualmente giocare davanti alla difesa insomma ragazzi continuiamo a parlare di questo Juventus Inter di questa delusione di Juventus Inter legata alla Coppa Italia con questo clima incandescente e non potrebbe essere altrimenti perché la stagione sarà deludettissima abbiamo anche raccontato le ultime sud di Maria con la Juve che a breve avrà un altro contatto con l'entourage del giocatore lo stima molto sta facendo delle valutazioni e vedremo se deciderà di andare a offrire quest'annuale o meno e poi Artur Artur che con queste dichiarazioni di Pastorello si allontana concretamente la Juventus mi raccomando ragazzi viviamo assieme questi giorni iscrivetevi al mio canale YouTube alzionate la campanella e mettete il like ai contenuti un abbraccio grazie a tutti